ti do il benvenuto a questa meditazione guidata per la luna piena oggi ci connetteremo con l'energia della luna piena per trovare calma e chiarezza interiore per lasciare andare i pensieri e le emozioni negative e per manifestare ciò che desideri e gli obiettivi che vuoi raggiungere per iniziare cerca un luogo tranquillo dove puoi sederti comodamente senza che niente o nessuno ti possa disturbare puoi accendere una candela o una luce soffusa per creare un'atmosfera rilassante in una posizione comoda chiudi gli occhi e inspira profondamente respira lentamente e profondamente riempiendo i polmoni di un'aria fresca e pura inspira espira inspira espira quando espiri rilassa il corpo e lascia andare le tensioni visualizza la luna piena nel cielo notturno se pratichi questa meditazione in una notte di luna piena puoi osservare direttamente la luna da una finestra da un balcone dal tuo giardino altrimenti se non c'è la luna o non hai la possibilità di osservarla dal vivo puoi guardare l'immagine che appare nel video o anche visualizzarla nella tua mente osserva la sua luce brillante e rilassante e immagina che questa luce ti avvolga ora immagina che la luna emani una luce bianca brillante che entra nel tuo corpo attraverso la tua destra senti questa luce che scorre attraverso il tuo corpo pulendo ogni tensione e ogni preoccupazione senti la tua mente che si calma e si apre alla bellezza del momento presente mentre continui a respirare lentamente immagina che la luce della luna piena scenda nel tuo cuore senti il tuo cuore che si apre alla bellezza e all'amore intorno a te visualizza ora un'immagine di te in un luogo tranquillo e sereno può essere una spiaggia una montagna o un prato verde immagina che la luce della luna piena ti avvolga e ti protegga mentre ti rilassi in questo luogo tranquillo e sereno senti la calma e la pace che ti circondano inizia ora a pensare a ciò che vuoi lasciare andare nella vita lascia che questi pensieri rimangano nella tua mente per un momento puoi anche immaginarli sotto forma di un colore o di un oggetto che fluttua davanti a te ora ripeti questo nella tua mente o ad alta voce se lo desideri ti libero sotto la luce di questa sacra e magica luna piena non ho più bisogno di ciò che non mi serve e non mi dà potere mentre lo dici immagina che tutte le cose le abitudini le persone i comportamenti e i modelli di pensiero indesiderati scompaiano nel bagliore pieno e potente della luna ora ripeti queste frasi nella tua mente o anche ad alta voce rilascio questa indegnità rilascio questo dubbio rilascio la paura e la rabbia rilascio il risentimento rilascio il giudizio rilascio l'invidia e i paragoni rilascio le relazioni che non mi servono rilascio le persone e le situazioni tossiche immagina che ognuna di queste cose venga rilasciata dalla tua vita e assorbita dalla luce della luna piena grazie al suo potere di pulizia profonda senti la sensazione di leggerezza e rilassatezza mentre ti lasci andare continua a respirare lentamente e profondamente mentre sei in questo stato di tranquillità rifletti su ciò che vuoi manifestare nella tua vita quali sono i tuoi desideri più profondi quali sono le cose che ti rendono felice e ti danno senso di realizzazione visualizza questi desideri come immagini chiare nella tua mente immagini che rappresentano ciò che vuoi manifestare nella tua vita senti la luce della luna piena che amplifica queste immagini e che ti aiuta a manifestare ciò che vuoi nella tua vita immagina che la luce della luna piena illumini il cammino verso i tuoi obiettivi e ti guidi verso il successo e la realizzazione personale concentrati sui tuoi sogni e visualizzali come se fossero già realizzati immagina di aver già raggiunto i tuoi obiettivi e senti la gioia e la felicità che questa realizzazione ti porta continua a visualizzare i tuoi sogni e i tuoi obiettivi finché non senti un senso di gratitudine per tutto ciò che hai già nella tua vita e per ciò che presto arriverà infine ringrazia la luna per la sua guida e la sua energia e prometti di lavorare duramente per realizzare i tuoi obiettivi respira lentamente e profondamente concentrandoti sulla luce della luna piena e sui tuoi desideri senti la pace e la felicità che ti circondano mentre visualizzi la tua vita così come desideri che sia quando senti che è il momento giusto apri lentamente gli occhi respira ancora profondamente e lentamente portando con te nella tua vita quotidiana la sensazione di pace e di gratitudine che hai sperimentato durante questa meditazione ripeti questa pratica meditativa per almeno 14 giorni anche quando non c'è la luna piena puoi visualizzarla nella tua mente o osservare l'immagine nel video Namaste 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 Namaste